Con qualche ritardo sul cronoprogramma è arrivata questa mattina la firma del contratto tra Irpini Ambiente e Comune di Avellino per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Alla sottoscrizione presenti il sindaco Paolo Foti, l'assessore all'ambiente Augusto Penna, il comandante dei vigili urbani Michele Arvonio e il numero uno di Irpini Ambiente Nicola Boccalone. Si punta ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata attraverso la rimozione dei vecchi cassoni, un porta a porta spinto, lo spazzamento della città e le sanzioni per i trasgressori. Costo del contratto 12 milioni di euro. Nonostante la soddisfazione per il risultato ottenuto c'è amarezza nelle parole dell'assessore Penna che rischia di essere travolto dall'ennesima crisi di maggioranza a Palazzo di Città. Voci insistenti danno per imminente una sua sostituzione. Guardi io sono sereno, molto sereno, con la serenità di chi ha cercato di fare qualcosa per la città che ama. Mi sono impegnato, è un anno che sono stato nominato assessore all'ambiente, ho cercato di impegnarmi, ho cercato di trasferire quelle che sono le mie competenze acquisite dal punto di vista professionale al ruolo di assessore della città. Non sempre i risultati sono stati quelli sperati ma credo di poter dire con certezza di essermi impegnato a fondo e di aver quantomeno impostato una serie di attività, una serie di progetti che possono vedere luce in questo anno o nell'anno successivo. Poi sarà nella volontà del sindaco della maggioranza stabilire se è ancora il caso di avere questo assessore all'ambiente o se preferiscono averne un altro.